Tre donne e tre giudici. Sono stati questi i protagonisti dell'omelia pronunciata da Papa Francesco nel corso della Messa a Santa Marta. Commentando le letture del giorno, il Pontefice ha rimarcato che anche oggi il popolo di Dio soffre un giudizio senza misericordia. Il vizio, la corruzione portano spesso a soffocare la speranza e le anime e non di rado i giudici rigidi puniscono nei penitenti quello che nascondono nelle loro anime. La Bibbia ci dice che né la misericordia è proprio il giusto del giudizio. Le tre donne, la santa, la peccatrice e la bisognosa figure allegoriche della Chiesa soffrono questa mancanza di misericordia. Anche oggi il popolo di Dio, quando trova questi giudici, soffre un giudizio senza misericordia, sia nel civile, sia sull'ecclesiastico. e dove non c'è misericordia, non c'è giustizia. Quando il popolo di Dio si avvicina volontariamente per chiedere perdono, per essere giudicato, quante volte, quante volte trova qualcuno di questi.